Sono Ricky Rendazzo. Ora è un momento per rappresentarvi la mia band The Flash! Pronto? Ho provato a chiamarti. Cosa posso fare? Puoi essere presente per tua figlia. Signora Agli Anelli. Merda. Oh, quella mi serve. Qual è il problema? Beh, mamma, io sono gay. È una fuga d'amore. Ho cercato di uccidermi. Vi porto qualcosa da bere? Per me è solo acqua. Anche per me è acqua. Con scotch. Martini come piovesse. Già. Il terapeuta mi dà l'Effexor e mi rende instabile. Va bene, va bene. Anorgasmica. Se avendo degli orgasmi... Anorgasmica. La vuol dire senza. È greco. Salda a bordo. Non sono mai stata una madre tradizionale. Secondo me è sedata pesantemente. Cambieranno tante cose nella tua vita. Un giorno ti sveglierai e scoprirai un filo argentato. E non parlo della testa. Hai fatto bene a venire. Una ragazza ha bisogno di sua madre. Sono così contento di vederti. Perché oggi non salti la terapia? Datti malata. Io sono malata. Per questo vado in terapia. Un cuore non è una cosa che può andare a male. Sembra di essere tornati negli anni Ottanta. Ehi, dove stai andando? In un bagno. A suicidarti là dentro. Ehi, dove stai andando? I swear, a legend. Grazie a tutti.